Piccole metamorfosi in graduatoria tra squadre che puntano alla vetta ed altre concentrate a difendersi. Siamo giunti alla diciottesima giornata nel campionato molisano di promozione. Il big match di giornata, Ururi Calcio Roseto, l'Ururi tornato da un pareggio con il 4 Torichieuti, dovrà battersi con la nuova capolista del momento. Il Roseto infatti è la nuova prima della lista con un punto di vantaggio sul Matese e 4 sul Pietramonte Corvino. Fischierà i 90 minuti a Medeo Monaco di Isernia. In casa del Carovilli invece il Molise, team ospite dopo la sconfitta di misura in casa, dovrà rifarsi. Il Carovilli è ancora in difficoltà, ultima in graduatoria in cerca di punti salvezza. Arbitro della gara Corrado Ferrara di Isernia. Pietramonte Corvino, Cliternina, match atteso tra due squadre grintose. Da un lato il successo della Cliternina che con tre reti ha lasciato senza difese il Castel Mauro e dall'altro il Pietra, reduce invece da un irreprensibile pareggio di 1-1 con il Matese. Ad arbitrare Luca Tano di Termoli. Polisportiva Ferrazzano Rocca Sicura, ospiti alla ricerca del riscatto dopo il K.O. di sette giorni fa. Gli uomini di mister Pietrantonio dovranno dimostrare tutta la loro determinatezza per risalire. La graduatoria fischierà la gara a Sebastian Bruscino di Campobasso. In conclusione, Termoli 2016 Castel Mauro. Gli adriatici, tornati vittoriosi dalla trasferta contro il Casal Nuovo Monterotaro, sembrano aver ripreso vigore. Stazionano a metà classifica con 22 punti. La squadra avversaria ne ha 23. Buona occasione per confrontarsi e sfidarsi in un match che non farà sconti. Marco Arisano di Campobasso, arbitro.